Salve, sceriffo. È una situazione piuttosto imbarazzante. Visto che cosa può fare la fede? Può fare miracoli, specialmente se la metti nella canna di un fucile. Allora, che avete da dire? Niente per ora, ma non finisce qui. Ah, no. Invece finisce proprio qui. Deve finire qui. Parole di Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Il cappello, per favore. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per amare e un tempo per odiare. C'è un tempo... Fratelli, qui dice che c'è anche un tempo per combattere e un tempo per vincere. Per vincere, fratelli! Vai, fratello!